Da questa mattina, a quanto pare, secondo una disposizione arrivata dall'ASP5 di Messina, per accedere negli ospedali, per esami, radiografie, visite, vaccini, ecc., gli utenti devono essere muniti di tampone eseguito massimo entro le 48 ore precedenti, altrimenti ci si deve sottoporre a testa anti-covid prima di entrare presso il nosocomio. Questa mattina, però, molti utenti non erano a conoscenza di questa nuova regola e presso il Santissimo Salvatore, già alle 8 di mattina molti pazienti, c'era chi doveva sottoporsi a vaccino, chi doveva fare una semplice visita, chi un esame, si sono trovati spiazzati e si sono dovuti mettere in fila sotto il sole, aspettando il proprio turno per sottoporsi al test e quindi poter entrare al Santissimo Salvatore. Tutto ciò, però, ha creato malumore tra gli utenti, in quanto l'attesa, tra ogni tampone e l'esito dello stesso, ha allungato i tempi e molta gente, stanca di aspettare, esasperata, ha preferito andarsene, piuttosto che attendere ancora per ricevere un servizio. In tanti ci hanno detto che non sapevano proprio nulla di questa nuova disposizione e, di conseguenza, visto che alcuni avevano anche la visita prenotata o il vaccino da fare, si aspettavano di ricevere un avviso da parte di chi di competenza. Lei non lo sapeva che da oggi iniziava il tampone obbligatorio per entrare in ospedale? No, io no, personalmente no. Personalmente io non lo sapevo. Naturalmente potevano avvisare via telefono, i numeri del telefono ce l'avevano, che dovevo fare la seconda dose, dalle otto fino adesso. Cioè, ora dobbiamo sfecciare. E ancora la gente aspetta? E ancora ce n'è un bel po'. Penso che verso le due chiuderanno e gli altri ce ne possono tornare a casa. Questa nuova regola entra in vigore in concomitanza con la zona gialla in Sicilia e tra le altre cose sono di nuovo sospese le visite dei parenti ai pazienti ricoverati.